Ciao a tutti, sono Federica, farmacista della parafarmacia Spazio Salute San Decenzio, una delle tre farmaciste. Questa parafarmacia l'abbiamo aperta a ottobre del 2013, io e mio marito e in realtà fa parte di un progetto che è molto più ampio in quanto sono tre rami, centro medico, studio dontoiatrico e parafarmacia, tre rami che si uniscono in una sola realtà, infatti cerchiamo di creare un collegamento di servizi in tutti i sensi. Nella nostra parafarmacia trovate un reparto di dermocosmesi molto sviluppato, il nostro intento è quello di coccolare la persona che entra, la persona magari non ha trovato il prodotto che voleva, però si è sentita ascoltata, si è sentita coccolata e questa è la nostra intenzione. Oltre al reparto di dermocosmesi abbiamo sviluppato un ampio reparto di fitoterapia, cerchiamo di soddisfare le esigenze di quelle persone che vogliono trattarsi, vogliono curarsi con qualcosa di più naturale rispetto al classico farmaco. Ovviamente siamo farmaciste e in quanto tali sappiamo che ci sono delle situazioni in cui il farmaco è inevitabile e sappiamo quando la persona deve rivolgersi al proprio medico curante, però la cosa molto importante per noi è ascoltare la persona che entra e cercare di consigliare il prodotto migliore, la cura migliore, il trattamento migliore. Nella nostra parafarmacia potete anche trovare un reparto per la cura del bambino. Quello che noi cerchiamo è di realizzare il desiderio di ogni mamma e quindi trovare il prodotto che più desidera. Se anche voi avete desiderio di ricevere un consiglio, una consulenza da parte nostra, ci trovate nella parafarmacia via Spazio Salute San Decenzio a Pesaro via San Decenzio numero 20.